benvenuti la granata group con transpalett italia.com è lieta di presentarvi il carrello elevatore faster 1230 con una portata di 1200 kg ed un'altezza di sollevamento di 3 metri grazie al montante duplex il faster 1230 è dotato di motore trazione in ac ed un robusto timone multifunzione servo assistito batteria coranzata per durare 8 ore consecutive di lavoro e carica batterie esterno il carrello elevatore timonato faster 1230 offre il miglior rapporto tra qualità e prezzo maggiore informazioni tecniche le trovate sul sito www. transpalett italia.com